Privacy e trasparenza nell'ambito scolastico, un tema complesso e molto delicato a cui ogni istituzione scolastica deve porre massima attenzione. La scuola infatti, in quanto pubblica amministrazione, è tenuta a rispettare due interessi primari, entrambi meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento giuridico, che possono facilmente entrare in conflitto tra loro. Il diritto alla riservatezza e il principio di trasparenza amministrativa. Nei webinar si tratterà dei principi fondamentali che hanno ispirato alle legislazioni nazionali in tema di tutela della riservatezza con riferimento al codice della privacy e di obbligo alla trasparenza degli atti. Sarà l'occasione per riflettere sulle problematiche e i rischi connessi al trattamento dei dati personali e nello stesso tempo volti a garantire la trasparenza di ogni atto nella logica della prevenzione della corruzione per una corretta gestione del bilanciamento tra il diritto alla trasparenza e il diritto alla protezione dei dati personali.